Madrid 20.000 mi piace e andiamo in un'altra città estera a mangiare fast food Bella ragazzi bentornati sul mio canale Siamo qui oggi con questo nuovo video Oggi ragazzi come potete ben vedere siamo ad Amsterdam Lì c'è piazza Dam Però oggi siamo qui ad Amsterdam Per fare la 24 ore solo KFC Quindi ragazzi ho già fame Però ovviamente non sono da solo ad Amsterdam Ma sono con Mister Ciao E anche Fish Game E poi c'è Home Ciao Quindi ragazzi andiamo dentro con il pranzo Vedati Ragazzi finalmente KFC Questi sono piccanti 14.30 Bella Si pranza ragazzi Ovviamente favorita anche voi Certo Ma questo è minimo La giusta con è più Ok Sta all'osso questo Prima costoletta è andata via ragazzi Costoletta Costoletta Poi manca la Coca Cola C'è la Pepsi Abbiamo diventato le cannucce Quindi così Questo è con l'osso Allora È abbastanza piccante Questa non so cosa sia Sempre pollo Non mi piace quelli che è un piccante Andrei mangi un po' tutto Nel video Un po' piccante Un po' senza Fate voi ragazzi Ma lascia Mi ti prego Questo è piccante Già la faccio È troppo piccante Se sei uomo È piccante Devi mangiare Bevi bevi Ragazzi a voi piacciono piccanti O non piccanti Non si vuole non piccanti Tieni Andrea È piccolissimo Guarda Sono così Grazie Sono non piccanti Sono non piccanti Questi Aspetta No sono tutti piccoli così Guarda Non dobbiamo per ritendersi Ma non sono tutti piccanti Vedi da così Questa è la di più Che vuole mangiare il chirurgo Ovviamente anche le patatine Senza salse Perché Mi piace La maionese Però Questi sono ketchup Di Andrea Di Om Di Henry Di Mister Andrea non è colpa mia Sei tutto piccante Ragazzi stasera Mi sa che prendo solo i tender Questi sono piccantissimi Però è buono Piccante è buono Ragazzi siete mai stati Ad Amsterdam A mangiare Cose tipiche Che ne so Che si O solo Fast food Che sia tipico Qua è tutto tipico Comunque nei scorsi video Dove mangio Fast food Ho detto che le patatine migliori Sono quelle del Burger King Però Anche queste mi piacciono Com'è? Perché? È buono Il po' l'om È un po' piccantello Però è buono Tu fai vedere Che non l'hai preso questo Tu cos'hai preso? Il Brassi Tipo piadina rotolata Chi è? No no ragazzi Già finito tu? No no Ancora no ragazzi Potrei mai finire Prima di tatino Vero? Ah E mo Sono il pollo Senza piccante Andrei vuoi un po'? Qua Andrei Ho detto vuoi un po' Hai preso tutto Vabbè andrei mangio Qua ci sono due patatine E ho finito Anche altre due patatine E poi ci vediamo stasera Con la cena Ok raga Si mangia Finalmente Qua sono le 10 Guardi Faccio vedere io 22 e 01 Ok Questo è vostro raga Guarda qua Il basket con i tenders Con i tendens Io li chiamo tendens Qui è il mio ketchup Raga Non vedo l'ora Che la mia cena cominciano Sarebbe pollo Normale Distossato Ah distossato Impanato Questo è il migliore Secondo me Si Del che si Questo qua è il migliore Ditemi voi Qual è secondo voi Anche le alette Però Questo È migliore Però sono piccanti le alette Quella buona È buona Abbiamo preso una poca Ovviamente la coca cola Non può mancare Ovviamente Il latte Non può mancare Ah no No Rubo una coscia Le patatine Rubo anche una coscia di polla E rilazzo a mister Grazie Ma è forte No Dovevi dire di sì Così te la conservavi Rubo anche le patatine home Bene Quanti sono le mostre Ah sì Allora pigi Però non ti mangiare Tu quanto Però sai che questo Con l'osso Sono più saporiti Perché la coca È più grassa È la parte più grassa Del pollo La coca Sì Sì Vi vede grassi allora Mamma mia Ovviamente Cosa Si mangia tutto Non si lascia niente Neanche le ossa Non ci siamo altri Magari Grazie noi Bis 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 Siamo dipendenti dal pollo Oh è bravo Sei patatino È buono sei patatino Ho capito ma con calma Fino prima fa Facciamo così Non scambio Bravi una cosa rossa Dica la cosa più grande Che hanno Bravo Come sei bello Barolo Com'è? Forte Sovra-coccia È me forte No Perché non so Magari lo mettono nel forte Dentro È una frittatina Mica in quelle La fortica Comunque è pollo Ah ma non c'è osso C'è osso Eh sì Io mangio anche la cartillagine Il pollo Che schifo È buonissima La cartillagine è buonissima Ma non c'è l'orto No ho detto di me Ah scusa No ho detto di sì Ho tolto Guarda dove era Stai dimmi Mi resta Da Queste cose Dai Guardi qua Guardi ve lo giuro Fanno paura Con le schifezze Qua diciamo che Con il fast food Mamma lo calmo Annozze Che devi dire Andrea Ma ti ha bussino il ketchup No a me non piace Vabbè Ah ma l'ho comprato Che faccio Non lo uso 65 centesimi Sto ketchup È come avere le braccia Ma non fare palestra Infatti non lo faccio Stai ti hai fatto un altro scambio Sì Questo è presenza osso Facciamo una cosa No con calma Facciamo io l'altra parte E tu questa parte Così Finché non arriviamo al pubblico No no Io mi fermo Ok No non ce la faccio Dai Andrea Non ce la faccio Stai dopo averti baciato a Milano Mai più Oh Mi lasci un po' Ci lascio eh Me lo togli Ok C'è ancora C'è ancora Sopra Sopra coscia Che merda Fa schifo La coscia è solo Con la Dai Dai Amore Sono morbida Questa è quella bianca Sembra a petto Ed è che non sono buone Però questi qua Fanno paura Stavo pensando no Sì Io che sì Non ho fatto mai colazione Ci stanno col polvo No ci stanno le cose Però Se la vuoi fare bene Fata col polvo Se no c'è la roba dolce Però Vediamo Qua mi è divalata Però questi pezzi Ragazzi Sanno troppo Veloci Il pollo Già finito Guarda che faccia Dico questo Ho bevuto pochissimo Ancora tutta intera Quindi ragazzi Abbiamo finito Anche la cena Fiamo domani mattina Per fare colazione No Ti ho detto Non è finito Ah no Ti concedo Ho morso la crianza Gua la crianza Si vede di mangiarlo Tutto Edda Damme la melosso Va Sentito Scusate Lui è un po' così Stavolta abbiamo finito A domani mattina Buonasera Ragazzi Buongiorno Buongiorno Sono le 11 e 07 Come potete ben vedere Mi hanno svegliati un po' tardi Perché ieri sera abbiamo fatto Niente niente Hai visto un muffin Ah Ci siamo svegliati un po' tardi Perché ieri sera Siamo andati a ballare Allora Come a ballare Non è vero No 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 E vi faccio la colazione Dei campioni Vuoi andare? Dai uno Uno dai si Mister Ho capito che pollo è mattina Guarda dai Che pollo Eh no grazie Davide Bravo Guarda è un morso Non dal mio No 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 E' ancora anche tu la bocca Partita Ah beh Io invece venirevo male Quindi non lo sento A me il pollo piace A qualsiasi orario Regà Sono un po' buoni E poi guarda Sembra che c'è E' un po' rosso Tipo piccante Invece non è piccante KFC Di mattino Questi sono i tuoi pezzi preferiti Tati Beh Perché sono senza rosso E sono impanati Il pollo impanato lo amo Beh comunque Mi hanno aiutato a fare colazione Ci vediamo penso tra Almeno due o tre ore Per poi pranzare Noi ci vediamo Dopo ragazzi Like you Finalmente ragazzi Orario di pranzo Ho fame Voi avete fame? Beh Ho preso un menù strano Infatti Come potete ben vedere C'è anche una pannocchia No Ho mai preso Ma chi sono le galline? Io non ho mai mangiato Una pannocchia così Io mangio di solito pop corn Piano Vedi piano Non riesco ad aprire Lo so che è una cosa invitante Da mangiare Però Vedi piano Mh bollita Queste le vendono a Napoli Ah ti giuro Non ho mai assaggiato Io No Questa è quella dei cartoni Come fai tatatata La prima volta Assaggio Ma Il mais Non è male Il mais L'hai mai mangiato? Si ai pannocchi Capito Ma il mais No No L'insalata di riso Non mi piace però non è male questo vuoi mangiarlo? ovviamente le patatine ma no ha spruzzato lui ti ha spruzzato si spruzza sta cosa ma è fritto? no no è bollito voi l'avete mai mangiata la pannocchia? ma detta così insomma è un po' però ragazzi nel menù queste le mangio se vuoi nel menù ci sono ci sono i tenders e una sola di coscia di pollo e l'altro? ah poi c'è anche una costoletta e l'altro? e là solo tenders in teoria ok io inizio con questa poi mangiate cosa vuoi? le tenders? eccolo sono dimenticato i tenders sono i migliori comunque io preferivo la coscia di pollo questo mi ha messo sopra la coscia a me piacciono anche quelli piccanti però questo è più conto? si? eh ah piccantoso tenders la tenders è la birra anche qua tender 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 ti rubo un po' di questo ogni giorno coca cola ogni giorno fast food qua dentro cosa è rimasto raga? guarda guarda R ragazzi sta mangiando di più eri che io mangio da dire ma se da qui devo pensare scusa la tua eri a dieta ovviamente il filos mangerà questi ultimo goccio di coca cola quindi ragazzi abbiamo finito di mangiare questa challenge finisce qua beh scriveteci prossima challenge da fare tatatino mister e rilanzo è tutto noi ci vediamo al prossimo video bene ragazzi ciao